Ma quanto diavolo sono simpatico? Ma quanto diavolo sono simpatico? Ma a Pucocca una volta tutte le donne facevano da mangiare? Il bastone animato! A Pucocca tutte le donne facevano da mangiare... Porca pucca! Porca pucca! Vieni qua Emu, vieni qua! Dove cazzo sei? Vieni qua! Dio santo! Vieni! Dov'è? 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 Qua! Qua! Ma Dio s... Oh, ci dobbiamo calmare qua Ciccio! Ci dobbiamo calmare! Ci dobbiamo calmare! Bert, ritieniti responsabile! Ritieniti responsabile! Per il bunker un consiglio, dimmi Scarax! Io un paio di volte ce l'ho fatta ad uscire dal bunker e ad andare in buca! Io che credevo che fosse un consiglio vero! Cioè io ho pensato a un consiglio vero, ho pensato, ho detto stoppo tutto perché voglio leggere il consiglio di Scarax che anche lui ci sta giocando, che si sta esercitando anche lui! Mi consiglia la paletta e il secchiello, mi consiglia! E adesso fa anche la tecnica di bucettone, fa! Paletta e il secchiello al posto della mazza! No, non mi fermo più Scarax! O scrivi qualcosa per giustificarti o io non mi fermo più! Avevi detto che ti dava una calmata Scarax! Ciao Ale! Vi è qua Ale! Vi è qua! Vi è qua! Vi è qua! Se gli racconti che fai carbonara con la soda e a boccettina del vaccino, te la tirano in faccia, te la tirano! Ok, ora possiamo continuare! Perfetto! Ci tenevo a dirgli quella cosa! Altrimenti potresti prenderti una di quelle cose già pronte? Pezzino! Tu puoi solo baciarmelo! Clippate! Clippate! Per questo non c'è il tutorial su internet! Clippate! Stavi dicendo pezzo? Io non sento più pezzo, voi lo sentite? Non lo sento più? Solo roba di qualità da Roger! Diglielo! Grazie dei bit! Tanta qualità! Tantissima qualità! Infinita qualità! Sto controllando il premium su Tinder? Io sono il premium su Tinder! Ciao, digz! Sono già io il premium su Tinder! Oggi un amico che capita in Francia è stato male, per fortuna ha seguito il mio consiglio per guarire, ha preso la bast... E io l'ho letto seriamente pure! Io l'ho letto seriamente! Io devo controllare il K finale, devo controllare! Quando mette il K, sta sparando una cagata! Ci deve arrivare questa cosa! Così ci siamo! Allora, questo qua è l'action figure di Dibba, ecco qua! Il suo personaggio preferito, che fa le hit da dietro i muri, fa... Ecco come gioca a Dbd! Va che bello che è! Va che bello! Se sei tu, Dibba, ne sei tu! Ed ora è impagnoata che ti vedo, lo tiro fuori! Che detta così... Ok! Ok, ok, ecco... Ecco, questa potrebbe già finire... Comunque dai! Eccolo qua! Io amo a fucking Borconcino! Ho che dubbio? Devo prenderla e muovermi! Grazie a tutti Ma porca di quella proia maledetta Non capisco ancora che cazzo ho fatto di male Punto Punto Così, grazie dei bits, te l'hai io Grazie del punto Devo capire perché dice punto adesso Ogni volta dice punto Qualunque bit venga donato dice punto Vabbè Tenti loro Comunque grazie E non lo so E da quando hanno cambiato la voce del bot Che dice punto Tra l'altro sta scena si può fare anche senza accendino Punto A farmi lo streamer Oddio L'allenamento Per il tuo fisico Fai palestra Durante la settimana O comunque ti alleni qui nel tuo motorhome No No Arenamento sarò chiamare Ok Consigliamo sempre Santo amore Oddio Oddio Mi sento male Oddio 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 Cercano Cercano sinonimo di disagio Probabilmente salta fuori il tuo nome La cosa della senza aver gusto e dell'odorato è permanente? Alahă Ok Poi alla fine diventa impossibile Che mi ha fatto andare di traverso l'acqua Ma sarai coglione Ma sarai coglione te Oddio Oddio santo Oddio Mi ha regalato la sabba da Murandiz Grazie Diz Vieni Non aver paura croccanterri Ma vieni Tu i complimenti Dovresti farmeli ogni giorno A priori A prescindere Appena apri gli occhi Il tuo primo pensiero appena apri gli occhi Il tuo ultimo pensiero prima di addormentarti E il tuo pensiero costante durante tutta la giornata Continuiamo Che pazienza Che pazienza Alcuni personaggi di Spitfire si sono operati Cosa vuol dire si sono operati? Ma porca c***a Ma porca c***a A casa blanca Sono zone inedite che sono presenti solo nella versione Saturn E ha anche delle musiche inedite Sempre presenti qua C'è proprio delle zone in più che non esistono da nessun'altra parte C'è proprio di più che non esistono da nessun'altra parte C'è proprio di più che non esistono da nessun'altra parte Ti prendi la combo? Ti prendi? Non la leggo nemmeno Trombosi Io credo che fosse una cosa buona Niente Niente Clippatemi pezzo per favore Clippatemi pezzo Che questo finisce Nelle mie perle di Twitch volume 2 Clippatemi pezzo Clippatemi pezzo Clippatemi pezzo Clippatemi pezzo